Ciao ragazzi, in vendita Z64 Hardware 1 con modifica SD Caricamenti velocissimi BIOS Silver Fox quindi permette il caricamento e l'inserimento della periferica SD all'interno Guardate quanto è veloce il caricamento Pochi secondi, il gioco è caricato Gioco è caricato Torno Castlevania ProSit Conami Spengiamo Volete cambiare gioco Uno dei miei preferiti Ci ho giocato veramente tanto Display perfetto A tutti i cristalli I cristalli liquidi funzionanti On Guardate Perfetto Play 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 Two One Go Oh yeah Con una mano è difficile giocarci Spengiamo Il gioco Rush Star Fox Smash Smash Rock Rad Rad Tick Mook Extra G E via Pochi secondi Extra G Spettacolare Qualsiasi domanda Sono qui Ciao ciao Ciao